seconda vittoria consecutiva e chiude direi alla grande questa settimana la lars virtus arichi salerno che si prende lo scalpo di un'altra grande di questo campionato brianza con me coach german asciutto coach ho parlato con spinelli e con capitan cucco condividevano un concetto chiave una bella virtus una squadra che sta crescendo una squadra che sta trovando entusiasmo della pallacanista che sta finalmente esprimendo direi in maniera clamorosa se guarda abbiamo giocato una partita veramente molto intensa molto forte in licenza abbiamo i giocatori stanno capendo quello che voglio trasmittere e namento quello che l'idea mia di fare la difesa afficciante all'altra squadra non so se si dice afficciante si capisce afficciante e loro stanno facendo veramente molto bene stanno molto concentrato nel gioco quello lo più lo più importante quello concentrato con molta energia sa che cosa deve fare non avere dubbio quelle sono le cose che ti portano sempre a giocare una bella partita e dopo ci troviamo con una vittoria coach analizziamo la questa gara perché insomma le difficoltà le conoscevamo tutte un'ottima squadra a distanza di pochi giorni una gara dove si era speso tanto in termini di energia una squadra che corre il campo l'abbiamo detto brianza però la virtus ha dato la sensazione di aver approcciato anche psicologicamente nel modo giusto all'avversario e poi sottolineo un momento che per me è stato come dire risolutorio nel senso della crescita di questa squadra l'infortunio di capocotta come la squadra anche soprattutto nel secondo tempo riuscita a rispondere capocotta è uno dei giocatori non parliamo mai dei singoli ma diciamolo che aveva dato migliori sensazioni nel match di mercoledì giocatori sono usciti dalla panchina faccio il nome di spinelli ma potrei farne anche altri grande risposta psicologicamente proprio si guarda la l'idea di questo come c'è di farle alle altre squadre arrivare a un punto che psicologicamente vengono sotto c'è giocare forte con intensità e non giocare a rubare la palla sino a fare che gli altri fanno un errore capito che loro non riescono a fare il suo gioco io sempre faccio una strategia per mandare al gioco una parte che loro non c'è io non voglio giocare il gioco di loro io sempre dico dobbiamo cercare di fare il nostro gioco così mandiamo a loro a fare un altro gioco diverso quello studio molto molto bene per quello guardo tanto tanto gli altri avversari stiamo quello è molto buono è molto piacevole per me come allenatore certo perché arrivare a che loro capiscono quella sensazione magari loro non si rendono conto però vi faccio vedere dopo della partita che cosa come le fanno c'è portare la partita al nostro campo che vogliamo fare in attacco sia come un difenza dopo quello di Capocotta veramente speriamo che non sia niente niente di grave perché lui sta anche crescendo molto come giovanile come 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 under e sta facendo tante cose buone e come dice te ho 12 in panchina che li faccio pensare che quando mancano uno due giocatori dobbiamo approfittarlo perché io non voglio non voglio che nessuno sia infortunato però può succedere che magari sta una o due partite fuori o mezza partita fuori devo stare concentrato alla ora di entrare e di fare quelle che che lascia lui in campo a fare uguale o meglio certo allora questo anche se sta se sta se sta contruendo giorno a giorno in allenamento parlando psicologicamente perché il giocatore psicologicamente se deve lavorare anche non solo la pallacanestro nel gioco è veramente quello che hanno entrato in panchina che per me non è un uno che è sostituto sino che è uno che ci sta una volta in panchina ma deve stare lì perché si gioco 15 minuti è quello che mi dà la squadra si gioco una partita 15 una partita 30 una partita 5 lo che sia è quello che voglio io farle capire perché la partita scorsa magari francesco spineli non ha giocato molto tempo e lui magari bisogna come tutti giocare un po di più per farmi vedere o farle vedere la squadra che è bravo oggi è stato tranquillo ha giocato una squadra una partita senza senza preoccuparsi senza nervosismo senza forzare ha giocato una partita normale ha preso il tiro che deve prendere è andato bene quello bellissimo e speriamo che come ho detto prima che capo cota non c'era nulla e che potremmo contare con lui lo più presto possibile assolutamente sì anche perché poi coach adesso il tempo di goderci questa vittoria che chiaramente ed anche psicologicamente importante lo avevamo detto nel pre gara perché toglie anche quel meno di cui abbiamo parlato più volte dalla nostra classifica e poi un derby ha un calendario comunque di tutto rispetto sono tutte squadre forti però un derby come quello come dire sul parche di sant'antimo sicuramente regalerà grandi emozioni come sempre ed è una sfida soprattutto una sfida importante ulteriore di crescita certo certo credo che noi dobbiamo continuare così non pensare altro non pensare che come detto ragazzi dobbiamo non pensare che siamo imbattuti sì che siamo una squadra forte e che andiamo a giocare con una intensità molto alta come sempre e che sì le dobbiamo fare pensare altre squadre che non sarà facile prendersi una vittoria è sempre un derby molto buono perché ti dà tanto stimolo al giocatore però dobbiamo sempre pensare che quella squadra che davanti che giochiamo domenica è la squadra che è la migliore e così ti fa concentrare molto bene speriamo che sia una una partita buona non penso che non sarà una partita buona perché sarà una partita molto intensa loro sono bravi a giocare a fare tante cose in difesa come in attacco più di tutto che hanno tanti tante possibilità di fare canestro noi dobbiamo fare la nostra solo quello dobbiamo pensare esattamente come è accaduto questa sera grazie mille coach per la tua disponibilità e ancora complimenti grazie a voi saluto a tutti i tifosi